Mi chiamo Daniele Gardiol, sono un astronomo dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e lavoro all'Osservatorio Astrofisico di Torino. Gli astronomi del nostro istituto parteciperanno alla Notte dei Ricercatori, venerdì 27 settembre, avremo delle attività in città, i nostri astronomi andranno con i loro telescopi portatili in due punti, sul terrazzo del Museo Egizio e al massio della Cittadella, per far osservare ai partecipanti le bellezze del cielo, quello che si potrà vedere da Torino, comunque qualcosa si potrà vedere. Inoltre nella nostra sede qui di Pino Torinese, dove ci troviamo, potrete partecipare a due riteniamo interessanti attività. La prima è un incontro con alcuni nostri ricercatori che vi aspetteranno nei loro uffici per parlare con voi e raccontare la loro ricerca su alcuni temi di punta dell'astronomia moderna in cui il nostro osservatorio è coinvolto. E poi naturalmente potremo usare il telescopio che vedete qui alle mie spalle, anche qui per osservare gli astri. Vi aspettiamo quindi a Torino e qui nella nostra sede di Pino Torinese.